Quali sono i disturbi, i sintomi che mi devono un uomo far correre dall'urologo e farsi visitare? Buonasera, grazie per l'invito. I disturbi sono sicuramente dei disturbi che noi abbiamo identificato e catalogato dentro un acronimo, che è un termine poi inglese che si dice LATS, e che ovviamente esprimono i disturbi che riguardano sia la fase di riempimento che di svuotamento del serbatoio che è la vescega. È chiaro che un paziente che presenta questi LATS riferisca al proprio urologo, e forse dovrebbe anche riferirli a se stesso qualche volta, perché sempre più ci rendiamo conto che non riusciamo ad essere dei buoni medici di noi stessi, che la notte ci incominciamo ad alzare e che ovviamente la nostra moglie, le nostre compagne cominciano ad avvertire questo perché chiaramente interrompe il sonno, che spesso abbiamo un'urgenza nell'andare a trovare una toilette, specialmente quella che noi definiamo la cosiddetta sindrome del garage, ritorniamo a casa, parcheggiamo la macchina e improvvisamente inizia un progressivo stimolo di dover andare di corsa a trovare una toilette. Si può curare con i farmaci l'ingrossamento del garage? Si può sicuramente curare, si dovrebbe sicuramente curare, ed è importante in questo senso una diagnosi precoce, quindi l'inquadramento clinico da parte del medico, l'utilizzo di una diagnostica per immagine che ci permetta di definire in maniera chiara i disturbi che il paziente riferisce, e quindi la possibilità di utilizzare farmaci che noi oggi abbiamo a disposizione, che agiscono sia sulla sintomo, e quindi migliorano il modo di urinare del paziente, la velocità del getto del paziente, la sensazione di svuotare la vescica del paziente, si agiscono direttamente sull'oggetto, sulla causa dell'aumento di volume della ghiandola prostatica, che è la crescita all'interno della ghiandola prostatica di una lesione benigna, il cosiddetto adenoma della prostata. Quando è necessario l'intervento chirurgico? Fondamentalmente quando i tentativi terapeutici che noi abbiamo utilizzato, siamo riusciti ad utilizzarli, perché purtroppo molti di noi uomini nascondiamo a noi stessi qual è il nostro... Non vi fate controllare, non andate mai da... Un po' questo... Noi donne siamo abituati, io dico sempre, noi donne andiamo molto spesso dal ginecologo, ci hanno insegnato ad andare al ginecologo, poi uomini un po' meno. Un po' meno è anche perché questo tipo di sintomatologia non è una febbre a 40 gradi, è un lento progressivo scendere e peggiorare dei sintomi, quindi poi spesso questo andamento molto lento finisce per non essere percepito dal paziente e quindi anche identificato e quantificato in maniera adeguata. Il nostro obiettivo primo è impedire che il serbatoio, la vescica, non subisca un danno funzionale che poi è difficile da recuperare. Lei, professore, ha messo a punto una nuova tecnica, proprio mini-invasiva, per curare l'ingrossamento della prostata. Noi siamo venuti... Con molto piacenza, è un belissimo giorno. Reparto, siamo entrati in sala operatoria, dovremmo avere le immagini, perché appunto per capire di che cosa si tratta questa nuova tecnica che lei ha messo a punto? Sì, è stato il frutto del lavoro non solo mio, ma di tutto il mio gruppo, quindi credo che in medicina non esista il singolo, ma esista sempre l'equipe, quindi dobbiamo sempre dare a tutti i giusti meriti. Questa è una tecnica che noi siamo stati prima a introdurre, è una tecnica estremamente innovativa che permette di gestire e trattare pazienti con qualunque dimensione di adenoma, perché ripeto, il problema non è la ghiandola prostatica, ma è l'adenoma, la parte centrale, e riuscire a ottenere con intervento di chirurgia mini-invasiva dei risultati estremamente performanti, con brevissimi tempi di deteggenza e brevissimo recupero da parte del paziente. La tecnica che noi abbiamo utilizzato, è una tecnica che, come vedete, utilizza un'ansa particolare, che è una struttura come una sorta di disco volante, viene chiamato un plasma oval bottom, che permette di agire scollando l'adenoma dalla struttura prostatica, quindi creando progressivamente un distacco della struttura denomatosa, riuscendo ad avere una completa radicalità nell'asportazione dell'adenoma e quindi conseguentemente dei risultati non solo a breve, ma a medio e lungo termine assolutamente soddisfacenti. È questo, è questa l'importanza anche per avere dei sintomi post-operatori ridotti rispetto alle vecchie tecniche tradizionali. Io ho detto prima che gli uomini insomma hanno qualche difficoltà a farsi controllare dai medici. Possiamo dare dei consigli come prevenzione? A che età vanno fatti i controlli? Credo che l'inizio dell'approccio con l'urologo dovrebbe essere intorno ai 50 anni. Però è chiaro che ci sono delle patologie che possono manifestarsi anche più precocemente. Quindi attenzione nei giovani che riferiscono difficoltà per esempio nell'urinare. Non sottovalutarla perché potrebbe essere un problema che risiede nel collo vescicale congenito e quindi è estremamente importante anche lì fare una diagnosi. Allora, chi fosse interessato a questa nuova tecnica del professor Giulianelli può chiamare a questo numero di telefono fra qualche istante lo vedrete in sovraimpressione 06 36 7971 oppure contattare ovviamente la nostra redazione per qualsiasi chiarimento. Grazie, grazie davvero professor Giulianelli.